Il nostro obiettivo è abbassare il score e per fare questo ci sono tanti modi, ok? Ma una delle cose più importanti è usare bene il scoring club. Cosa significa? Quei bastoni che ti permette di fare il score. Sappiamo che il gioco corto è importante, il patting è importante, ma anche quei colpi dal green dai 80 metri o 70 metri fino ai 120-130. Significa da pitch, 9, 8 e anche il 7. Abbiamo bisogno di prendere più green. In questo video vi faccio vedere perché voi non prendete il green e cosa serve per prendere più spesso il green. Perché tanti giocatori di golf soffrono con i feri corti o anche quelli intermedi? È un problema di impatto. Cosa succede? O è la flappa o è il top. Per quale motivo i professionisti tirano bene? Perché loro riescono a fare palla zolla. Quello è il segreto per colpire bene, con un impatto solido, creando compressione dove la palla viaggia non solo più dritto, ma anche va più lungo. Allora, quello che vedo, che spaglio spesso i giocatori, quando fanno il movimento, magari partono facendo troppo back swing, muovono fuori asse. E se io muovo fuori asse così, diventa difficile colpire bene la palla, deve rispostarmi tantissimo. Allora, già questo può creare un sacco di problemi. Seconda cosa, diciamo che il boxing va bene, ma cosa fai quando scendi? Ti butti indietro. Perché l'istinto, no? La testa dici, devo alzare questa palla, la devo mandare in aria, perché questa palla è un peso che deve spostare su verso il green. Invece il segreto, ok, è colpire la palla in questo modo. Io devo scendere, colpire la palla così quando scendo, così si schiaccia la palla, prendo lo spin e parte. Se io tocca, o comincio a cercare di alzare la palla, tocca terra prima, faccio la flappa, o se non prende la terra, quando comincia a salire, prende la palla in testa. Allora, è molto importante di non fare questo errore che ti butti indietro, perché se no è flappa o è il top. Io devo colpire palla e zola. Quando io ero giocatore, i momenti che io ho giocato il mio migliore golf, i feri corti, un po' come Fleetwood, il giocatore inglese, tutti i colpi a tre quarti facevo. Facevo tutti i punch. Cosa vuol dire punch? Quando faccio uno zola un po' più aggressivo, il movimento è più tre quarti. Cioè, prendo un ferro in più. Per esempio, qui ho un colpo di circa 125 metri, un po' di vento favore. Per me, oggi, posso tirare un pitch pieno, ok, con questo vento che mi aiuta. Ma cosa ho preso? Ho preso un nove. E i cambiamenti, i cosi sono? Io impugno il grip leggermente più corto. Questo è il massimo. Io sto un po' più giù sul grip, per avere un po' più controllo. Ho preso un ferro in più. Poi cosa faccio? Mi metto qui in posizione. Ok? Mi metto la palla leggermente, mezza palla più indietro, solo poco. Peso un po' a sinistra. Perché il peso un po' a sinistra? Un per cento, due per cento in più a sinistra. Perché quando faccio il swing, il mio obiettivo è tenere il mio peso qui, sulla gamba sinistra. Questa è una cosa fondamentale. Perché quando scendo voglio mantenere quell'angolo. Poi dopo voglio sentire il mio swing, che arriva su un orologio, massimo tipo 10, 2. Ok? Anche un po' di meno volendo, ma un swing più corto, ma molto connesso. Voglio sentire la braccia e il corpo che lavorano insieme. Divento compatto connesso, così riesco a gestire tutto più con i grandi muscoli, che sarebbe il mio corpo proprio. E sento questo ritmo tra braccia e corpo insieme. Guardate questo. Ok? Alla Fleetwood. Ho girato bene. Guarda le mie rotazioni del bacino. Non rimango bloccato indietro. Io devo continuare a ruotare. Allora, se il mio punto, dove sta la palla è qui. Il mio punto di impatto. Mi metto qui, piedi non troppo larghi. Leggermente a papare tutti e due. Vuol dire leggermente in fuori. Peso in frazione a sinistra, in pugno più corto, qui, giù e giro. E così riesco a sentire il mio corpo rotato con connessione braccia e corpo verso l'obiettivo. E guarda dove tocca il terreno. Guarda la differenza, se io butto indietro. Guarda cosa succede. È pazzesco. E se io impatta la palla così, non prendo mai il green. Qui uno e due. E avere un ritmo calmato. Allora, facciamo questa prova. Ho fatto almeno 5-6 prove, cercando, e questo è un segreto secondo me, che ogni volta va fatto in campo su qualsiasi colpo, di toccare l'erba il punto giusto, in modo giusto. Ok? Metto qui un pugno corto. Piedi un po' più vicini. Peso un po' sinistra. 10-2 sull'orologio. Wow. Questo è super preciso. Questa è una palla che ho messo in centro green, senza problemi. Sembrava che non ho fatto niente, ma col vento, tutto quanto a favore, il mio 120 metri ho fatto. E' importante ricordare, il nostro obiettivo con i ibridi, i legni, quello sì, può fare distanza, avvicinare al green, ma lì non risparmi i colpi. Se non perdete la palla, questa è una delle mie regole per il campo, non perde la palla, tiene la palla in gioco e qui si recupera da 120 metri, 110 metri sotto, con 7, 8, 9 picci, dove possiamo risparmiare i colpi. Ora faccio un altro, un pugno corto, piedi abbastanza vicini, leggermente aperto, a papara diciamo, peso un po' sinistra, mango sulla sinistra. I miei obiettivi sono, sto guardando addirittura davanti alla palla, 3 quarti, 10, 2, molto bello, leggermente sinistra, ok, va bene, va bene, faccio ancora uno, c'è l'ultima palla qui, vediamo se riesco a fare un altro, ho fatto bene. Cerco di ruotare bene davanti, qui ho ruotato meno bene, ok, stesse cose. Anche qui, molto bene, questo ho messo un po' più sulla destra e forse il bordo green leggermente fuori bordo, ma c'è un approccio molto semplice. L'obiettivo qui è aumentare i green presi, se io riesco a prendere 60% dei green con questi feri qui, credimi, i scorsi abbassano tantissimo. Questo è stato il segreto per me quando giocavo e sarà il segreto anche per voi. Be your best. Be your best.